Io credo che il NutriScore, contrariamente a quanto spesso si sente ripetere, sia un sistema che ha delle basi scientifiche veramente molto fragili. C'è questo algoritmo molto complesso che dà un valore ai vari componenti degli alimenti che non è più in linea con le evidenze scientifiche più recenti e c'è il fatto che essendo un sistema poi sostanzialmente di tipo interpretativo, che dà un voto agli alimenti e che dice quindi alle persone non preoccuparti particolarmente, fai quello che ti dico io, quindi preferisci gli alimenti verdi e gli alimenti rossi va anche molto in disaccordo con la concetta ormai generale di che bisogna invece formare le persone. Oltretutto può rendere difficile la combinazione degli alimenti, cioè è qualche cosa che in effetti dovremmo considerare veramente superato e la larga maggioranza di queste criticità viene di fatto perfettamente superata dal NutriIn4Bat, è un sistema molto più semplice che non vuole dare dei voti, dice semplicemente guarda la composizione dell'alimento è questa c'è questa quota di sodio, questa quota di zuccheri, questa quota di vari componenti combinali in maniera intelligente perché la cosa importante non è eliminare o privilegiare il singolo alimento è avere nel complesso un'alimentazione equilibrata, un pattern di attenzione equilibrato e da questo punto di vista quindi NutriIn4Battery è assolutamente superato il NutriScore.